Stamattina all'inaugurazione del nuovo stabilimento Laica a San Casciano, il primo incontro dopo la ufficializzazione della candidatura di Rossi alla segreteria con il premier Matteo Renzi. Non ci sono state battute, però di questo parliamo con il segretario regionale del Partito Democratico. Lei da subito ha fatto gli auguri, ma non le piace moltissimo questa candidatura. Anche detto proprio sui giornali recentemente sarebbe bene che ci ripensasse da qui al congresso che ancora non esiste. No, io non ho detto che non mi piace, ho fatto un'osservazione descrittiva e anzi ho fatto molti auguri a Enrico perché quando le persone ci mettono la faccia io sono contento e le apprezzo. Ho detto che questa candidatura arriva in un'area del partito, quella della sinistra interna, della minoranza del PD che non vota Renzi, che è già molto affollata di candidati e che mi pare non abbia colto bene l'ingresso in campo di Rossi. Mi pare quindi una candidatura che avrebbe avuto un valore aggiunto se avesse unificato la sinistra interna del Partito Democratico, mentre invece sembra averla ulteriormente frammentata. Per ora lo scopo di Rossi forse è proprio questo o no? Unificare la parte di sinistra che non sta con Renzi? Diciamo che i primi segnali non sono incoraggianti, però la sinistra interna del PD non è il mio campo di specializzazione e quindi ritengo di non essere più titolato a dare un'opinione. Poi osservo anche questo che manca tanto tempo al congresso, più di un anno e mezzo, possono succedere tante cose, Enrico potrebbe anche ripensarci. Mi pare presto per fare previsioni o per dare giudizi definitivi. È un invito quello a ripensarci o no? No, assolutamente no. No, assolutamente no.